Vieni qui, bella. Sta fermo, lasciami! Che hai da guardare, vecchio? Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va provocato? Quello sono io. Cerchi rogna, vecchio, vedi di filare. Papà, hai lavorato tutta la vita. Sarebbe ora che cominciassi a pensare a rilassarti. Questi posti non sono per niente, come pensi tu. Sono molto belli. No, no, sono stupendo. Cacciati il giorno del suo compleanno. T'ho detto che era una brutta idea. Perché diamolo devono trasferirsi qui a questi cinesi? Dorothy aveva espresso chiaramente il desiderio che lei venisse a confessarsi. Allora confesso che non ha il desiderio di confessarmi con un giovanotto appena uscito dal seminario. Fuori dal mio terreno. Nonnetto, guardati le spalle. Andiamo, dai. Grazie. So che ci sono stati problemi nel vicinato. Perché non ha chiamato la polizia? Io ho pregato che si facessero vivi, ma nessuno ha risposto. Perché mi portate tutte quelle schifezze? Perché ha salvato Tao. Io non ho salvato nessuno. Lei è un eroe nel vicinato. Non sono un eroe. Facciamo il barbecue, vuole venire? C'è anche la birra. Ma sì, va. Beviamo con gli stranieri. Quei ragazzi che erano qui l'altra sera. Che mi dici di loro? È solo una gang. Adesso senti. Sta alla larga perché se devo tornare qui saranno guai. Che si prova a uccidere un uomo? Non me lo chiedere. Tao e Sue non troveranno mai pace in questo mondo finché c'è in giro quella gang. Che intendi fare, Walt? Qualsiasi cosa farò, quelli sono spacciati.